Buongiorno, allora oggi sono vestita come ieri, mi sono svegliata più presto del solito, infatti sono le 10 e niente, tra poco mi viene a prendere l'anna e chiara così andiamo a fare colazione insieme dato che lei oggi parte, oggi è pomeriggio e niente, tante persone nei vlog ma anche nei video nuova ma insomma mi chiedono cosa è, come ti chiami su musical.ly, come ti chiami su instagram e tutte queste cose qui ragazzi, cioè io ho una descrizione del video quindi basta che appunto andate a vedere nella descrizione c'è scritto tutto 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 e niente, quindi se volete qualche informazione riguardante ai social e a come faccio i video perché mia mamma deve urlare quando parla al telefono, cioè se volete sapere appunto qualche informazione riguardante ai miei social e ai miei video trovate tutto nella descrizione, magari lo dirò più spesso così, così sì insomma perché i menù chiedono davvero tantissime persone con cosa editi, qual è la tua applicazione insomma c'è scritto tutto nella descrizione guardate questa brutta persona, guardatela, guardatela è il mio iphone 7, è una brutta persona, cioè gli hanno indicato l'iphone 7 per Natale ma che notte non è per Natale? ma bellissimo beh, qual è l'iphone 6, quindi non l'hai cambiato sì, però fa le foto meglio penso adesso vedremo la differenza tra l'iphone 5s e l'iphone 6 e l'iphone 7 stavo scherpando, scusa che bello stiamo guardando paradise che cosa vuoi dire? che cosa c'è? che c'è paradise? paradise eh, cosa ho detto io? no perché mi facessi cosa mi fai dentro paradise quando hai perdito il video, c'è cosa fa? paradise che è quello? tuo padre ma che bella inquadratura ma poi io non guardo così ragazzi andate a vedere i nostri musical.ly che i miei social li trovate nella descrizione e quello dell'Anna Chiara lo trovate quando la taggo nei miei video e tutte quelle robe la trovate comunque si chiama Anna Chiara Anna Chiara trattino basso Anna Chiara trattino basso una cosa del genere comunque no, 14 mi sembra che ti ami su Instagram beh comunque la taggo in qualche modo allora ragazzi queste sono le carte che ho io ma voi non le dite mai all'Anna Chiara e che stiamo per giocare a Macchiavelli l'abbiamo già fatto una partita prima ma guarda qua che bella carte dimmi soprattutto questa ma so che belle le mie guardate dai ok ragazzi sono appena tornata a casa e lo so che in questi giorni non lo sto vlogando tantissimo però appunto sono quasi sempre in casa vabbè a parte oggi che sono andata con l'Anna Chiara però anche lì siamo state in casa quindi non abbiamo fatto niente di che e quindi boh non so se vi fa piacere appunto che vi prenda mentre sono in casa io non faccio praticamente niente quindi scusatemi però è così e niente alla fine ieri altre persone mi hanno chiesto ma Capodanno è il primo di gennaio? no Capodanno sarebbe il 31 il primo dell'anno sarebbe l'1 io finisco i vlog il 31 cioè il 31 a mezzanotte appunto come avevo detto in un vlog vi auguro la buonanotte cioè vi auguro un 2017 però finisco lì i vlog cioè non lo faccio anche nell'1 tutta la giornata dell'1 lo faccio tutta la giornata del 31 e poi basta quindi spero di essere stata chiara niente quindi spero vi sia piaciuto questo vlog vi mando un grosso bacio ci vediamo al prossimo di domani ciao